Il decreto napoleonico di fondazione Il vice direttore, professore Andrea Giardina I presidi, professori Luigi Ambrosio e Michele Ciliberto Il prorettore per la sede di Firenze, professor Mario Citroni Ascoltiamo ora la prolusione del direttore della scuola Professor Fabio Beltram Vorgo il benvenuto a tutte le autorità civili presenti Al presidente della regione toscana Al prefetto, al questore e al sindaco di Pisa A quest'ultimo, neopresidente della provincia Le nostre congratulazioni Benvenuto al sindaco di San Mignato Anche colui mi congratulo Per la sua altrettanto recente elezione a consigliere provinciale Nostro bentornato al presidente del tribunale di Pisa Al procuratore della Repubblica Agli assessori alla cultura e all'istruzione della città di Pisa Alla presidente della commissione cultura Un benvenuto all'onorevole Maria Grazia Gatti E all'onorevole Federico Gelli Il nostro grazie al presidente della comunità ebraica di Pisa Che manda un saluto affettuoso Comprensibilmente non è con noi in questa giornata di Shabbat Un saluto e benvenuto alle autorità militari Il comandante provinciale della regione Carabinieri E il comandante della regione Carabinieri Generale Mosca Lo rappresenta appunto il nostro comandante provinciale Il nuovo comandante della guardia di finanza Colonnello Iuzzolino Il rappresentante della 46esima brigata aerea Benvenuto, s'eccellenza, l'arcivescovo di Pisa Un saluto e il benvenuto alle autorità accademiche I rettori dell'Università di Pisa Un ringraziamento speciale perché aveva, so, varie altre cerimonie In parallelo ci fa molto piacere che sia qui con noi Lo ringrazio I rettori dell'Università per stranieri di Perugia e di Siena Grazie Della Scuola Superiore Sant'Anna E ai colleghi rappresentanti gli altri Atenei Benvenuti Un benvenuto al direttore della Scuola Galileiana di Padova Anche rappresentanza del rettore Ringrazio per la loro presenza i direttori Vesentini e Settis I nostri professori emeriti oggi con noi Vedo in particolare Claudio Cesa E lo abbraccio Bentornato al segretario generale Anna Maria Gaibisso E do il benvenuto Alla sua prima cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico Il nostro nuovo segretario generale Ilaria Adamo Grazie alla Presidente del nostro nucleo di valutazione Che oggi è qui con noi Un benvenuto ai Presidenti della Fondazione Pisa Della Fondazione Palazzo Blu Della Fondazione Puteano Della Fondazione Cavaliere di Santo Stefano E al Presidente dell'Associazione Normalisti Benvenuto al Presidente della Lega Coop Servizi Toscana Benvenuto alla soprintendenza Alla responsabile della soprintendenza archivistica per la Toscana Benvenuto al Direttore del Museo Nazionale di San Matteo Anche rappresentanza del soprintendente Del soprintendente Il nostro saluto è benvenuto al Presidente Dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica E ai rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche Dell'Istituto Italiano di Tecnologia Dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleale Della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio Benvenuti e grazie ai relatori del simposio Massimo Osanna Cristina Acidini Hoss Predekamp Salvatore Lorusso Emma Richardson Fabio Cavallucci Marina Pugliese Saluto gli allievi Gli ex allievi E il personale Docente e non docente della scuola Un saluto infine A tutte le nostre ospiti E a tutti i nostri ospiti Forse lo devo ancora ricordare Il 18 ottobre 2010 A Fontainebleau Napolone Bonaparte Firmò questo decreto E nacque così la scuola normale Superiore di Pisa Ecco perché il nostro statuto vigente E il nuovo statuto Che entrerà in vigore Il 24 ottobre Quest'anno Fissano nel 18 ottobre L'inizio dell'anno accademico Della scuola Ed ecco perché siamo qui oggi A celebrare l'apertura Dell'anno accademico 2014-15 Ricorre dunque Il 204esimo anniversario E della fondazione Mentre Sempre Sempre più Compiutamente Perfettamente Prende forma La nuova Normale E mi cito da un precedente Discorso di inaugurazione In assoluta continuità Con i principi Sui quali è stata fondata E secondo i quali Si è sviluppata In oltre due secoli La scuola si aggiorna Si apre a nuove discipline E una dimensione Sempre più internazionale Sono particolarmente felice Della presenza Del presidente Rossi E una delle prime persone Con le quali ho condiviso Questo progetto E mi ha sempre incoraggiato Ad andare avanti Lo ringrazio ancora una volta Pubblicamente Sono già molte le novità Di questo anno accademico Che si è appena concluso E ne parleremo naturalmente E sono importanti Le sfide per quest'anno Accademico Che inizia oggi Prima di parlare Di questo però Prima di parlare Dei progressi Della normale Delle sue sfide Delle sue linee di sviluppo Dovete concedermi Un momento più intimo Devo ricordare Alcuni fatti Davvero dolorosi Che sono avvenuti In quest'ultimo anno accademico Dolorosi presi individualmente Tutti insieme Un colpo forte Alla nostra piccola comunità In quest'anno Sono mancati Alcuni di noi Colleghi stimati Con i quali esistevano Legami di stima Amicizia Affetto Lo scorso dicembre È mancato Francesco del Punta Durante questo 2014 Sono mancati Lorenzo Foa Abbraccio Maria Paola Che oggi È qui con noi Enrico Castelnuovo Roberto Vivarelli Maria Monica Donato E qui Gino Suo padre Lui sa Ma gli conferma La nostra vicinanza Le nostre affette Immutati È mancato Pochi giorni fa Emilio Picasso Direttore della Normale Dal 1991 Al 1995 Sono Siamo Ancora Frastornati Sconvolti Sconvolti Ma È nostro dovere Guardare avanti Pensare al bene Di questa istituzione Al suo futuro Una responsabilità Che grava Su tutti noi E in avanti Abbiamo guardato In questi anni La scuola Lo ricordavo Sta cambiando Rapidamente E profondamente È cambiata La struttura Del corpo docente È stato finalmente Valorizzato Il patrimonio Rappresentato Dai nostri ricercatori In particolare Quelli più giovani Abbiamo cambiato La struttura Decente di supporto Alla ricerca Ridefinito Il perimetro Scientifico Della scuola I nostri corsi Di perfezionamento Sono diventati Una vera PhD school Per questo motivo Come sempre In questa occasione La prima parte Del mio discorso Grossa parte Del mio discorso In effetti È dedicata Alla verifica Dell'impatto Di questi cambiamenti All'analisi Degli indicatori Che ci dicono Se siamo Sulla strada giusta E di queste ultime Settimane La pubblicazione Dello World University Ranking Del Times Times Higher Education Ne parlo Però prima Devo premettere E mi cito Sapete che registrano Tutto quello che dico In queste occasioni Lo mettono in rete Quindi non posso mai Contradirmi Quindi mi cito Non credo ciecamente A questa O in generale A nessuna classifica Ma mi conforta Vedere quali sono Le istituzioni Che costituiscono Il manipolo di testa Di cui facciamo parte L'avevo detto Per la classifica cinese Di cui parleremo dopo Ora parliamo Della classifica Britannica E parliamo quindi Del World University Ranking Del Times Higher Education La normale ne esce bene Siamo il primo Ateneo italiano L'unico Italiano Tra i cento Tra i primi cento Al mondo Se guardiamo i parametri Che portano a questo risultato Le barre orizzontali Di quell'istogramma Vedete che Gran parte Della qualità Del nostro ranking Deriva dall'impatto Della nostra ricerca L'ultima Barra In fondo Questo è molto importante Per noi Deve essere così Se considerate Il ruolo della ricerca Nel modello formativo Della normale I nostri giovani Sono formati Attraverso la partecipazione All'attività di ricerca La ricerca Come palestra Per l'allenamento A quello che oggi Si chiama in inglese Problem solving E questo richiede risorse La normale investe Con straordinaria intensità Sulla ricerca In termini di strutture Laboratori Sittà bibliotecario Archivio Di finanziamento A progetti E lo voglio sottolineare Progetti che sono selezionati Su base competitiva Attraverso referaggi Indipendenti Fatti da esperti Esterni Alla scuola normale E naturalmente Investi in termini di persone Questi sono gli investimenti Più importanti Ringrazio il professor Fulvio Ricci Prorettore alla valutazione Per il suo lavoro serio E generoso A favore della scuola La ricerca richiede anche Un'amministrazione agile E un'assistenza paziente Ai nostri professori E ricercatori Credetemi Paziente Ai nostri professori E ricercatori Ringrazio A nome di tutta la scuola Il nostro servizio Alla ricerca e trasferimento Tecnologico E desidero menzionare In particolare Larissa Zoni Che tra l'altro È neomamma Abbraccio lei E la sua famiglia Aldo Rizzo Ed Elena Mengali Grazie Tornando al Times Higher Education Possiamo essere ancora più soddisfatti Se guardiamo al ranking Delle Physical Sciences Saliamo al 40esimo posto al mondo Ancora una volta L'unico Ateneo Italiano Tra i primi 100 Lasciatemelo però dire Purtroppo Noi sicuramente vogliamo essere in testa A queste classifiche Ma non desideriamo assolutamente Questa solitudine Nel panorama nazionale Guardando Alla genesi di quelle barre La nostra piccola dimensione Costituisce in qualche caso Una penalizzazione In altri casi L'alta Fatemi dire Intensità Di qualità Che contraddistingue la normale Diviene invece un vantaggio Dipende dall'indicatore Che viene utilizzato E questo effetto della dimensione È ancora più evidente Nell'altro ranking Di cui parliamo sempre Quello cinese L'Academic Ranking Of World Universities Della Jiao Tong University di Shanghai Qui gli indicatori sono Cumulativi E vengono pesati Per tener conto Della taglia Senza tener conto Della taglia dell'Ateneo C'è un solo indicatore In cui La dimensione diversa Dell'Ateneo Viene in qualche modo Utilizzata Per normalizzare Il dato Che è l'indicatore PCP Per capita Performance Non è caso Ed è quello di cui abbiamo Tipicamente parlato In queste nostre riunioni Questo è un indicatore Secondo me Credo secondo noi Importante E significativo Perché altrimenti Rischiamo di confrontare La qualità degli Atenei Per esempio Prendendo il numero Totale di pubblicazioni Che un Ateneo produce Ma questo Ateneo Potrebbe avere 2000 docenti La normale Ne ha una quarantina La taglia Ovviamente Fa una differenza E voglio essere pedante Abbiate pazienza Su questo punto Sarebbe Come valutare La produttività Dei frutteti In generale Dei frutteti Utilizzando Come misuratore La quantità Totale Di frutta Prodotta In chilogrammi E' chiaro che Confronteremmo Un frutteto Con 40 alberi Con un frutteto Con 2000 alberi Nell'esempio precedente E' ovvio che ci possiamo Aspettare un certo tipo Di tendenza Se non teniamo conto Di quanti sono gli alberi Lo so Sono veramente pedante Ma avete letto Sui giornali Gli articoli Che presentano L'Academic Ranking World Universities Non l'hanno capito Vi giuro Ci ho provato Ci ho riprovato Perché questa cosa Questo rituale È un rituale Che avviene ogni anno Il messaggio Non è passato Non c'è niente da fare Se guardiamo Comunque A questo ranking pesato Io ci riprovo Un'altra volta Vedete che La normale Non se la passa male E nel gruppo In un piccolo gruppo Di testa Composto da questi sei In Europa Ci siamo noi E la nostra Sorella Parigini L'economale di Parigi E poi Caltech Harvard Princeton Ed MIT Quella che dicevo prima Il tipo di compagnia Che noi vogliamo In questo tipo Di ranking Un altro particolare Un po' tecnico Mi scuso Ma voglio lasciare Questo for the record Come si dice Nella registrazione Di questo mio intervento Rispetto al 2013 Cos'è cambiato? Ci siamo cambiati Nell'ordine Con l'Ecole Parigina Niente di importante Niente di male Si è chiaro Un'inversione Nell'ordine Questo è dovuto Che è peggiorata La performance Della normale O migliorata La performance Della colpa Parigina No Sono cambiati i parametri E cambiata la definizione Di uno dei parametri Il parametro Che si chiama Highly sighted individual Questa è una cosa Che viene fornita Da un'agenzia indipendente La Easy Thompson All'università di Shanghai Hanno cambiato La definizione Vi rendete conto Che se cambiate La definizione Di uno dei parametri Confrontare Le due Graduatori Diventa un po' arduo Perché In un anno L'abbiamo misurato In centimetri L'anno dopo L'abbiamo misurato In pollici E' chiaro Che i numeri Non sono Esattamente Confrontabili Non esiste Comunicato Che noi possiamo fare Non esiste Dichiarazione Che io possa rilasciare Per far passare Questo messaggio Quindi Ci rinuncio Lo dico però a voi Lo registriamo Così il prossimo anno Quando uscirà la classifica E vedete una variazione E leggerete qualcosa Sulla stampa Mi sono scritto anche Leggerete probabilmente Qualche dotto editoriale Sulla crisi Del sistema universitario Perfino nella sua sede Più prestigiosa Saprete che è una sciocchezza Di uno dei parametri E ne parleremo Il prossimo anno Insieme Prenderemo atto Che è successo Vediamo se mi sono sbagliato Ma questo Purtroppo Non succederà Siamo comunque contenti Di essere in questa posizione In questo manipolo Di testa Della graduatoria Infine Un'ultima Valutazione Di cui dobbiamo parlare Che è La Valutazione Cosiddetta BQR Valutazione Della qualità Della ricerca Svolta Dall'Ambur L'Agenzia nazionale Per la valutazione Del sistema universitario E della ricerca L'anno scorso Avevo fatto presente Qualche elemento Di debolezza Nell'architettura Messa a punto Dall'Ambur Soprattutto per l'eccessivo Fuoco Sulla performance media Piuttosto che Quella di eccellenza Per così dire Ma confermo Il plauso Per questo avvio Di un sistema Di valutazione In Italia Solo un feedback Forte E coerente Basato su indicatori E risultati oggettivi Potrà far migliorare Il sistema universitario E' inutile Produrre nuove regole Nuove leggine Nuovi regolamenti E' inutile Soltanto un feedback Serio E puntuale E coerente Potrà Dare un segnale Chiaro Al quale Gli atenei Si adegueranno Gli atenei Che continuano E continuano A reclutare Al rimasso E solo al loro interno Siano Puniti Non deve essere Conveniente Reclutare Docenti Mediocri Questi comportamenti Non virtuosi Avvengono Anche oggi Talvolta In maniera Sfacciata Leggete alcuni Bandi di concorso Sono in rete Ma il pudore Non sembra Frenare alcuni Leggete come Sono ritagliati Ad persona Ma contro La logica Qualche volta Contro la decenza Solo un sistema Valutativo Efficace Può innescare Una spirale Virtuosa Che porti Alla crescita Del sistema Dal punto di vista Della normale Questa prima applicazione Di un sistema Valutativo Ministeriale Italiano È stata positiva E il risultato Del nuovo modello Premiale Sul finanziamento È stato molto positivo Così positivo Che abbiamo dovuto Restituire soldi Al sistema Perché c'era un limite Superiore A quanto beneficio Un'ateneo potesse ricevere E quindi abbiamo Restituito soldi Al sistema Ma non mi sto lamentando Non vorrei che fosse chiaro Questi sono solo I primi passi Di una direzione Che io ritengo Corretta Utile Indispensabile Per il paese Di tutti i parametri Anvul Desidero ricordarne Uno solo Perché si rallaccia Alle parole Deliberatamente Scientemente Severe Che ho utilizzato Poco fa Contro alcune prassi Nel reclutamento Degli atenei Il parametro È proprio quello Della qualità Del reclutamento In estrema sintesi L'anvul Ha confrontato La qualità media Dei reclutati Nei diversi settori Dei vari atenei E ha confrontato La qualità media Dei reclutati Rispetto ai reclutati Quelli che erano Già nell'ateneo In sostanza Ha confrontato Chi recluta I più bravi Secondo quel particolare Sistema di misura Naturalmente E ha confrontato Chi recluta persone Che miglioreranno La qualità Dell'ateneo Da questo nasce Un indicatore D'accordo La normale Misurata Secondo questo indicatore È il numero uno Della graduatoria Reclutiamo dunque I migliori E cresciamo Nella qualità Del nostro staff Dobbiamo essere orgogliosi E soprattutto Continuare Su questa strada Questo è particolarmente Importante Per noi Oggi Stiamo elaborando Un piano molto Articolato Di reclutamento Sia a livello Di professori associati Sia a livello Di professori ordinari Stella polare Di questo piano La considerazione Che la normale Può Essere presente Solo dove Può esprimere Una misurabile Presenza Al massimo Livello Io ho detto Misurabile Questo ha dei significati Che in Accademichese Sono chiari Questo vuol dire Valorizzare Le risorse presenti Risorse umane In primo luogo Ha cresciuto In modo importante Dalla fusione Con l'Istituto Italiano Di Scienze Umane Di cui parleremo Tra poco E investire In modo mirato Sui soli Settori Strategici Parliamo sempre Di piccoli numeri Naturalmente E rimarrà Il ricorso Sistematico A tutte Le opportunità Offerte Dalla legge Per reclutamento A tempo determinato Per non ingessare La facoltà Della scuola normale E a proposito Di opportunità Offerte Dalla legge Sono molto orgoglioso Di potervi Parlare Dell'alto livello Di condivisione Che ha trovato Nella scuola La proposta Di agire In modo deciso Sui pensionamenti Anticipati È stata una scelta Delicata Abbiamo forse Chiesto un sacrificio Ai nostri ricercatori Più senior Ma l'interesse Della nostra istituzione Ha prevalso Desidero Sottolinearlo Le risorse Che si libereranno Per questo tipo Di scelta Saranno destinate Proprio A una politica A favore Dei giovani E del ringiovanimento Della scuola Potremmo anche Finanziare Nuovi percorsi Per favorire L'inseramento Dei nostri diplomati Nel mondo del lavoro Attraverso stage Sia nelle nostre strutture La biblioteca L'archivio Le edizioni I laboratori Sia in realtà esterne Pubbliche E private Il prossimo anno Potrò riferirvi Dell'impatto Di questa nuova Iniziativa E a proposito Di Anvur Martedì prossimo Abbiamo un altro Appuntamento Istituzionale A Firenze Nella nostra sede Di Palazzo Strozzi Inaugureremo L'istituto Di scienze umane E sociali Nuova articolazione Della scuola E vi segnalo Che sarà presente Il presidente Dell'Anvur Con un intervento Intitolato La valutazione Nelle scienze umane Problemi aperti E prospettive Una questione Delicata questa Perché bisogna Sicuramente evitare Interventi Troppo schematici Basati sul Trasferimento schematico Appunto Rigido Meccanico Di metodi Che funzionano In altri campi A questo Campo particolare Però attenzione Vorrei essere chiaro Vanno Allo stesso tempo Respinti I tentativi Di resistenza A una qualunque Valutazione C'è troppa Autoreferenzialità Troppo Corporativismo In gruppi Che esistono Solo nel proprio Proverbiale Orticello E svaniscono Al di fuori Della propria rivista Tipicamente Stampata E letta In casa Prima di Chiudere il capitolo Del ranking Una nota Più leggera Voglio segnalare Un risultato Davvero importantissimo Della normale Di cui non troverete Traccia Nel discorso Che verrà pubblicato Sul sito Della scuola Voglio parlare Di trionfi Dei normalisti Alle Ex Cool L'Excellence College Olympics Competizione Delle scuole Superiori italiane Indipendenti O interne Gli atinei Dove quella pioggia Di medaglie Ha fatto sì Che in base All'algoritmo Che era stato Definito Dai ragazzi La scuola Risultasse prima Vorrei un caloroso Applauso Per la nostra squadra E i ministri Dello sport Ida Duretto E Gianmarco Russo L'altro indicatore Che ho sempre analizzato Con voi È il numero Delle domande Di ammissione Alla scuola Questo numero È sempre altissimo E ci permette Di continuare A coprire I posti disponibili Attraverso una selezione Severa Al momento Devo ammettere Che non sono incluse Prove utili Per le ex school Quindi forse dovremo Consultare i nostri ministri Che sono presenti Per introdurre Qualche prova aggiuntiva E conservare Questa performance Di nostri allievi È in questa selezione Che sta la forza Della scuola normale Nei nostri allievi Nel loro talento E nella loro motivazione E vi voglio rassicurare Che questo Non lo perdiamo di vista L'aumento che vedete Nell'ultimo anno Il salto 13-14 È frutto Soprattutto Della crescita Delle domande Di ammissione Al corso Di PhD Io ne sono Particolarmente felice Proprio da quest'anno Infatti Abbiamo cambiato La struttura Del nostro corso Di perfezionamento Ai nuovi perfezionanti La scuola Rilascerà Il titolo Globalmente Intelligibile Di filosofia Doctor A seguito Di un percorso Chiaro Formalizzato In modo Da assicurare L'allineamento Con le migliori Esperienze Internazionali E sempre più Internazionale Sarà l'ambiente Dei nostri corsi Post laurea Non vogliamo Rinegare Le nostre tradizioni E un modello Formativo Che ha avuto Indubbi successi Ma sempre più Dobbiamo porci Una prospettiva Internazionale Sempre più Dobbiamo selezionare Accogliere E preparare Gli allievi In questa prospettiva Credo che La cresciuta Attrattività Della nostra PhD School Sarà ancora più Visibile dal prossimo Bando Quello che Contiamo di emanare A dicembre Di quest'anno Perché potremmo Dare notizia Per tempo Della nostra offerta L'anno scorso Forse lo sapete Tutto è avvenuto Con grandissimo Ritardo Per effetto Delle procedure Di accreditamento Dei percorsi Dottorali Se nonostante questo Abbiamo avuto Quel livello Di salita E di attenzione A livello Internazionale Molto è dovuto Al lavoro Efficacissimo Del nostro servizio Comunicazione E relazioni esterne Vorrei ringraziare Con voi Elisa Guidi Andrea Pantani Andrea Freccioni Daniele Leccese E quello aggiungo Anche Michele Fiaschi Che ora è passato A un altro servizio All'interno della scuola Ma ha impostato In tempo di record La riuscitissima pagina web Del nostro PhD Grazie Sono in particolare Stati avviati Quest'anno I primi due corsi Di PhD Basati nella nostra Sede fiorentina Si tratta di Scienza politica E sociologia E civiltà Del rinascimento Per la prima volta Abbiamo attivato Percorsi In collaborazione Con altre istituzioni In particolare Con l'Università Degli Studi di Bologna E l'Istituto Nazionale Per gli Studi di Sorinascimento Siamo molto soddisfatti Dell'attenzione Poi che i nostri programmi Hanno ricevuto Da altri enti Oltre ai partner strutturali Dai PhD Fiorentini Che vi ho già menzionato I percorsi Sia pisani Sia fiorentini Del perfezionamento In corso Quest'anno Sono finanziati Dal Ministero Per gli Affari Esteri Dal Consiglio Nazionale Delle Ricerche Dall'Istituto Italiano Di Tecnologia Dallo European Brain Research Institute Dalla Fondazione Pisana Per la Scienza Dalla Banca Unicredit Dall'Università Di Siena Dal Consorzio Interuniversitario Per la Scienza E Tecnologia Dei Materiali La normale Si è aperta A queste collaborazioni E si vuole aprire Sempre di più Siamo a disposizione Del Paese Per contribuire Alla sua crescita Civile ed economica Credo Spero Stiate trovando E troverete Molti concreti Segnali Di questa volontà E di fattiva Determinazione In questa relazione Tornando al nostro Corso ordinario È confermata La sua dimensione Nazionale Quella è La provenienza Dei nostri Allievi Che si sono Diplomati Nell'ultimo Nell'ultimo anno Dicembre Dell'anno scorso Elevi nostri E dell'Università Di Pisa In comune Sono elevi Del corso ordinario Una partnership Questa Che non ripeto Perché la ripetiamo Da 204 anni Credo E il rettore Sa che non c'è bisogno Che ho riparita Di questa partnership Di quanto sia importante Per la vita Della scuola E' anche istruttivo Però Vedere dove Questi ragazzi Che noi abbiamo Portato a Pisa Sono in questo momento In gran parte Stanno Proseguendo I loro studi A livello Dottorale In Italia All'estero Alcuni Stanno già Lavorando Sono inseriti Nel mondo Lavoro Immediatamente I nostri allievi Vedete Sono Sparsi per tutta Europa Quelli che si sono Diplomati A dicembre Sono stati allenati A pensare Su una scala globale Da cui escono Movimenti Di questo tipo Perché guardate Gli scambi Che hanno fatto Che sono avvenuti Nel 2013 Tra la scuola normale Da altre entità Ovviamente Gran parte di questi Riguardano Il perfezionamento Ma vedete La dimensione internazionale Del percorso formativo Che abbiamo Alla scuola La diaspora Che abbiamo visto Di allievi È benefica È positiva Per la loro formazione È utile Per la crescita Loro E del paese Con loro È molto bene Benefica Invece La fase successiva Registriamo Una difficoltà Un'incapacità Un'incapacità Scegliete il termine Del nostro paese Di utilizzare Questo patrimonio Di competenze Straordinarie Che sono I normalisti In parte Ho parlato I sistemi Di reclutamento Poco virtuosi Degli atenei Queste cose Non sono scorrelate Naturalmente In parte Dobbiamo dirlo Non pare Che il sistema Produttivo nazionale Capisca A fondo L'importanza Di una preparazione Di alto livello L'importanza Di questo Per l'innovazione E per lo sviluppo Dell'impresa Oltre alle domande Di emissione Alla scuola Menziono anche Il numero Delle domande Di frequenza Al nostro corso Di orientamento Lo sapete Questo è riservato Ad allievi Degli ultimi anni Delle scuole superiori Che stanno avvicinandosi Alla scelta Universitaria Anche questo È un indicatore Significativo E siamo arrivati A oltre 3.000 domande Per la frequenza Di questi corsi Ve lo ricordo Questo è un servizio Un vero servizio Che la scuola Offre ai giovani Di talento Che servono a frequentare L'ultimo anno Appunto Per aiutarli Nelle loro scelte Rafforzeremo Ulteriormente Il nostro polo Di orientamento A San Mignato Grazie alla collaborazione Con la fondazione Santa Chiara Questa è la sede Che vedete Stiamo davvero Facendo sistema A San Mignato E mi fa piacere Ricordarlo La presenza del sindaco Della città Di San Mignato Che è con noi E posso confermare La partnership Con la fondazione E con la banca Cassa degli Sparmi Di San Mignato Che hanno condiviso Con noi Questo progetto E sostenuto La nostra scelta Anche la regione All'interno Delle sue attività Di orientamento Ha scelto proprio La fondazione Santa Chiara Come organizzatore Per tre corsi Ispirati Al modello Della scuola normale Ne siamo felici E applaudiamo Alla scelta Della regione toscana E novità Invece di quest'anno Accademico Un'altra iniziativa Di cui vi parlo Volentieri Il progetto VIS Virtual Immersion In Science Un'attività Promossa Da un nostro docente Nonché delegato All'outreach Andrea Ferrara I numeri Di questa iniziativa Parlano da soli Oltre mille I partecipanti Al primo ciclo Delle conferenze E circa 700 allievi Delle scuole superiori Che hanno partecipato Alle visite Al CAVE Il sistema di visualizzazione 3D Della scuola Pensate che Il sito web Nei primi sei mesi Ha registrato 25.000 visite Sono molto lieto Di aver dato subito Il concreto sostegno Della direzione Al progetto E voglio rassicurare Il professor Ferrara Che questo sostegno Continuerà Ci può contare Voglio ringraziare Anche il professor Barone Che ha portato Il CAVE Alla scuola Ma ha consentito A renderlo Una risorsa Comune Grazie Sempre in proposito A VIS Un grazie anche Al professor Claudio Ciociola Presidente Della nostra biblioteca Per la collaborazione A questa iniziativa E soprattutto Le mie congratulazioni Per le novità Che sta introducendo La conversione Della nostra biblioteca In sistema bibliotecario Con l'apertura Della sede di Firenze È stata l'occasione Per investire Risorsi importanti Sono stati potenziati I servizi informatici Che saranno basati Su cloud computing Sia per gli applicativi Visibili dall'utente Sia per il back office Abbiamo fiducia Che porteranno A una razionalizzazione Dei flussi Di lavoro Forse qualcuno di voi Ha già provato Il nuovo strumento Per la ricerca bibliografica Di cui si è appena dotata La biblioteca Un miglioramento Davvero drastico E un perfetto allineamento Alle scelte di biblioteche Del livello Della British Library Della Bodleian Library E delle Boston University Libraries Solo per menzionare alcune E ringrazio per questo Claudio Ciociola E il nostro bibliotecario Enrico Martellini Grazie C'è dell'altro Vedrete poi Dal prossimo anno Un progressivo restyling Della biblioteca Un ammordenamento Degli arredi Questo ce n'era veramente bisogno Una riconfigurazione Degli spazi Insomma Vogliamo alzare Il livello di servizio In maniera sensibile Sia a Pisa Sia a Firenze In contortendenza Purtroppo Con quanto sta accadendo Nel sistema universitario nazionale Componente di cui Questo piano Qui a Pisa E la disponibilità Di nuovi spazi Qui nella piazza Grazie al supporto Della regione toscana Un'altra volta Ringrazio il Presidente Per il suo sostegno Siamo stati parola Presidente L'hai visto venendo qui Il Palazzo della Canonica L'intera piazza Hanno davvero cambiato volto Ti ringrazio Ricordavo all'inizio Di questa relazione L'entrata in vigore Del nostro nuovo Statuto Un nuovo statuto Che avvia Formalmente La nuova Scuola Normale Superiore E le sue tre Articolazioni Che mi fa piacere Menzionare Voglio dire noi Perché sono tutti e tre Nuovi La classe Di scienze umane La classe Di scienze Matematiche E naturali E l'istituto Di scienze umane E sociali Nuova Anche la presenza E delle linee di sviluppo Per dimoniare questa volontà Di lavorare insieme Di fare squadra E per me è importante Chiarire che questa apertura Non significa un'attenuazione Del nostro impegno A Pisa Qui stiamo oggi Investendo E crescendo E desidero ricordarvi I luoghi Della normale A Pisa Direi che si spiega da sé Siamo ora Nella piazza Quella che noi riteniamo La nostra piazza E ricordavo poco fa Questa è la nostra presenza In questa zona Sulla piazza Dei cavalieri Ricordavo poco fa L'intervento Sul palazzo Della canonica Ce l'avete dal vivo Ma non siamo tutti Così informatizzati Che ve ne mostro La foto Che è particolarmente Un po' comico Perché si vede Dalla finestra Ma insomma È qui Su questa tessa piazza C'è stato un altro Intervento importante Lo sapete Quest'anno Con il sostegno Della fondazione Pisa Abbiamo restaurato Lo scalone D'ingresso Del palazzo Forse ve lo ricordate La cerimonia Dell'anno scorso È stata Complessa Come accessi Perché c'erano Lavori in corso E si sono completati Durante quest'anno Se ci spostiamo Sul lungarno Questo è il collegio Timpano Assieme al sindaco Filippeschi L'abbiamo Abbiamo inaugurato La sua riapertura Sono più di 100 stanze Disponibili Per i nostri Allievi Lavori importanti Lavori importanti Non soltanto Di strutturazione Ma anche Dal punto di vista Strutturale E ci tengo A ringraziare La fondazione Pisa Perché Renderà disponibile All'interno Del nostro collegio Un pianoforte Per i nostri allievi Nella sera musica Ringrazio il presidente Di questo Andiamo in piazza San Silvestro Qui sapete C'è una struttura Molto importante La sede napoleonica Della scuola normale Superiore Abbiamo in questo momento Quattro cantieri Aperti In questa struttura E non è solo edilizia Anche se Devo dire È bella La struttura È molto bella Ed è stata riportata Esteticamente In condizioni piacevoli Ma è di più Questa sede Sta diventando Il nostro Polo scientifico E tecnologico In questa struttura Stiamo facendo Vestimenti importanti Assieme ai nostri Partner Scientifici Il Consiglio Nazionale Delle Ricerche L'Istituto Italiano Di Tecnologia La Scuola Superiore Sant'Anna Assieme alla Regione Questo centro Diventa un centro E una struttura Aperta anche Alle imprese Ed è uno dei centri Di competenza Regionali Dell'intensità Servizio Per questo lavoro A partire Dalla responsabile Del servizio Ingegner Benedetta Biondi Grazie E ho parlato Di rapporto Col territorio Ho parlato Di realtà Perché proprio Di questo Vorremmo parlare Adesso Con i nostri Ospiti Il Presidente Rossi E il Sindaco Filippeschi A cui do la parola Grazie 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 Grazie